Atletica Italiana TV al Golden Gala, Marcel Jacobs, questa sera tanta gente a vederti, hai parlato di volerti divertire e io penso che oggi ancora prima del risultato il pubblico fosse contento di vederti in pista. Quello assolutamente sì, ho sentito il pubblico e le enfasi che c'era all'interno dello stadio e per questo che sono un po' più amareggiato perché avrei voluto regalare qualcosa di più anche al pubblico. Le energie fisiche sono quasi finite, sto cercando di rosicchiare qualcosa dal fondo del barile e purtroppo stasera non sono riuscito a tirare fuori quello che in Silesi era riuscito a fare. Purtroppo avrei preferito farlo sicuramente qui rispetto che là, però che dire, questo è lo sport, ho spinto veramente tanto durante questa stagione e adesso ho bisogno di recuperare un pochino, ricaricare le pile e cominciare un'altra stagione. Ecco, ti chiedo proprio quanto ha pesato la Polonia e poi soprattutto ti sei fermato perché hai visto che eri dietro o c'è stato qualche problema? No, ma in realtà la Polonia l'ho corsa di testa perché il sistema fisico era uguale a stasera e quindi stasera ho risperato nel miracolo che è successo in Silesia ma non ha funzionato. Ho visto che la gara non stava andando come volevo, i miei bicipiti erano veramente al limite e per non rischiare di farmi comunque male che sarebbe inutile, arrivato a questo punto ho mollato la corsa perché tanto non aveva senso continuare a spingere rischiando inutilmente quando già la gara comunque non stava andando come avrei voluto. E adesso e soprattutto quando tornerai poi in America anche ti chiedo? No, sì, adesso ho ancora una gara che devo riuscire a fare, devo cercare di tirare fuori ancora qualche energia sperando che questa settimana riesco a ricaricare un po' le pile ma soprattutto liberare questa tensione muscolare che c'è nelle gambe e poi sì, un po' di vacanza e poi si ricomincia la preparazione negli Stati Uniti. Sono sicuro che l'anno prossimo correremo veramente forte perché con il poco tempo che abbiamo avuto quest'anno abbiamo dimostrato di essere tornati ad ottimi livelli, a correre una finale olimpica, a correre il 9.85 e quindi sono sicuro che il prossimo anno possiamo fare ancora meglio. E noi ti aspettiamo, grazie. Grazie mille, ciao. Vai.